Dove tu lo tocchi li attacca L'attacco non arriva dall'altra parte, arriva dal punto in cui tu metti la forza e quel punto che si rende vivo e che attacca Tu metti la forza e quel punto che si rende vivo e che attacca Te metti la forza e quel punto che si rende vivo e che attacca Si? 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 Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.